Venerdì 28 giugno al Baby Point di Piazzale San Francesco a Chiavari, incontro per famiglie sul tema del linguaggio e del suo sviluppo fra 0 e 6 anni. L'inizio alle 17.15 è una iniziativa del Centro Famiglia Tigullio. Alle 17.30 Vittorio Uva presenta il suo libro Follemente nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova con la conduzione di Eva Perasso. Il 105 Summer Festival fa tappa a Genova in Piazza della Vittoria dalle 19.30 con Alfa, Angelina Mango, Clara, Comacose e molti altri ancora per un evento ad ingresso gratuito. Il Genoa Club Ugo Vignale di Lavagna organizza la sesta Sagra del Pesce Azzurro in programma da venerdì a domenica, menù fisso con acciughe per tutti ed esibizione di danza dei ballerini della scuola Mauri Sport nel giardino del club allestita una mostra di immagini storiche di Lavagna. Torna Teatro in giardino, la rassegna che porta alla recitazione nei palazzi del Centro Storico di Genova al terzo piano di Palazzo Monticelli in Biacairoli stand-up comedy con Simonetta Guarino in memoria di una cicciona. Apertura del giardino alle 20.45, inizio spettacolo alle 21.15. Nel centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti alle 21 nella sala polivalente di Riva Trigoso, Federico Fornaro presenta il suo libro dedicato a Matteotti con il sottotitolo L'Italia Migliore, Luca Borzani, ne discuterà con l'autore. Sempre alle 21, ma a Chiavari, la compagnia teatrale A piedi scalzi di Levi presenta Sorella in azione, spettacolo musicale in due atti liberamente tratto da Sister Act con la regia di Francesca Lamarca, una serata a scopo benefico che si terrà nel Teatro Caritas di Via Marana. Se volete osservare le costellazioni, alle 21 c'è l'appuntamento organizzato dall'Associazione Il Se Stante al Parco Mandela di Sastri Levante.